Wella ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio 0 con la demo di Sons of Valhalla un titolo che avevo attenzionato qualche tempo fa perché proviene da una campagna kickstarter finalmente è arrivata la demo e allora lo andiamo a provare dovrebbe essere un gioco di strategia dove dobbiamo costruire il nostro clan ambientato nel mondo chiaramente norreno e side scrolling, quindi a scorrimento laterale in cui dovremmo fare dei raid, dei assalti in Inghilterra per fare delle conquiste, ma andiamo subito a vedere un po' di cosa si tratta vedo la prima di me, vedo la nostra città in flames e Valgaard tirando la scuola i pescatori mi chiedono che fuori per Inghilterra e che avevo molti scuola con lui non ci sono ancora vivere, io posso sentire lo sentire frate, noi stiamo tornando oggi, non potrai ascoltare con me per un po' di tempo mi troverà i trovare Valgaard e gli investimenti per fare per fare il mio padre e i nostri per fare per tutte le vie che ha avuto con la socia e la socia I promise you. Alstain, cos'è successo? Torald, è un disastro. La nostra nave si è schiantata nella tempesta. Dov'è la crew? Sono tutti morti. Quindi solo noi due siamo sopravvissuti? Sì, ho spedito una lettera all'Underbrek. Sperando che loro ci mandino dei uomini e delle provviste. Sembri un po' pallido. Questo ti riporterà, diciamo, ti rimetterà in sesso. Il pesce è nel tuo zaino. Trovalo e selezionalo. Ok. E vediamo come seleziona... Eccolo qua il pesce. Adesso mangia il pesce per riempire la tua... Per riprendere salute, ecco. E adesso mostrami se sei combattere. Avanti, colpisci mi con un attacco leggero. Ok, quindi questo è il tutorial che abbiamo iniziato. E chiaramente il gioco è solamente in inglese e in tedesco, perché è un titolo tedesco. È un progetto molto piccolo, fondamentalmente, e quindi tradurrò io, insomma. Bene, ma adesso colpiscimi più forte se riesci. Fai un doppio attacco. Molto bene. Adesso prendi l'arco e... E colpiscimi. Adesso blocca il mio attacco. Adesso si schiva. Penso di non aver scordato nulla. Grazie, vecchio amico. Mio vecchio amico. Seguimi. Proveremo un posto per accamparci qua vicino. Chiaramente lo stile artistico è così, è in pixel art. Però io l'ho trovato parecchio ispirato. E l'idea mi è piaciuta da subito, quando ho visto questo progetto su Kickstarter. Quindi spero effettivamente che sia un buon titolo, seppur un progetto piccolo, ecco. Svelto, vai vicino al fuoco per accamparti. Ok. Come... Ok, abbiamo fatto. Costruisci una baita per pescare. Gli uomini che ci stanno mandando apprezzeranno il nostro lavoro. Quindi stiamo cominciando a costruire il nostro primo accampamento. Nella parte iniziale, intanto vi racconto, dove lui scriveva questa lettera al fratello dicendo che degli uomini avevano distrutto il villaggio, avevano, credo, ucciso il padre, se ho capito bene, rapito forse la madre o la moglie. Questo mi è sfuggito. Mi sono un po' distratto. Però, di base, dovrebbe essere una storia di vendetta verso quest'uomo che ha distrutto il villaggio Norreno. Ok, noi dobbiamo costruire la Fishing Hut, ovvero il posto dove si pesca. Non ho visto se ci chiedeva, penso di sì, dei materiali, che sono in questo caso in alto a sinistra, sopra la barra della vita, ci sono i materiali. E qua c'è il nostro primo pescatore. Bene, adesso ti serviranno dei posti dove i nostri guerrieri si possono allenare. Barracks. Per allenarsi nel combattimento corpo a corpo. Qua servono 50 di legne, noi ne abbiamo 150, credo. E 100 di non so cosa, che non so cosa siano forse provviste. Però comunque ce l'abbiamo, quindi possiamo costruire agevolmente. Adesso possono venire. Adesso c'è quello che basta per fare venire questi altri uomini. Ed ecco che arrivano nella barca. Non mi ricordo come si chiama la barca Norrena, anche se l'ho guidata tantissimo in Assassin's Creed Valhalla. Uomini, eccovi qua. Torald, dai a questi uomini qualcosa da fare prima che si addormentino. Dai l'ordine a questi uomini di seguirti. Ok. L'ordine di seguire. Follow me. Perfetto. Adesso dagli l'ordine di proteggere i nostri cancelli. Quindi Retreat dobbiamo fare. Eccolo qua. Sei un leader nato. Hai una di quelle rune? Io le colleziono, sai? Puoi trovarle in giro per la terra. Trova altre rune e portale a me. In cambio ti insegnerò qualcosa. Posso vedere la tua runa? Forse vorresti scambiarla con qualche conoscenza? Ma... Vediamo. Impara le skill. Ah, quindi subito impariamo qualche skill. Vediamo, ecco. Quindi questo è l'albero delle skill. Abbiamo quattro diversi alberi di skill. Questo è, credo, un albero che riguarda i comandi che possiamo dare alle nostre truppe, alla nostra crew. Questo riguarda l'economia. Infatti, per esempio, qua abbiamo il nemico. Si serve il 20% in più di tempo per catturare un punto strategico. Ok. Poi abbiamo combattimento. Qua credo che miglioriamo direttamente noi stessi il modo in cui combattiamo. E poi abbiamo ranged. Ranged che credo riguarda invece il combattimento a distanza, in teoria. Questo invece, un tiro pulito, ha il 15% in più di probabilità di infliggere un pesante sanguinamento ai tuoi nemici. Mi piace, mi piace. Questi sono i nostri cancelli. Allora, se noi diamo il comando di seguirci, possiamo andare in esplorazione? Così riusciamo a capire anche cosa c'è fuori dal nostro accampamento. E magari come funziona il combattimento. Vediamo. Questi ci stanno attaccando. Ok, abbiamo trovato anche del loot. Come facciamo a dare l'ordine di attaccare? Ah, ok. Così stanno attaccando con le frecce. Alcuni attaccano dalla distanza e altri invece mi stanno seguendo nel corpo a corpo. Ah, abbiamo beccato un giavellotto sulle gengive. Bisogna vedere quanto effettivamente diventa complesso e profondo il combat system andando avanti. Questi sono nemici. Mortacci di che dico io. Sono tanti. Ma noi andiamo avanti impavidi, anche se stiamo per morire. Abbiamo qualcosa da mangiare, sì. Abbiamo del pesce con noi. Abbiamo un po' di pesce, abbiamo recuperato un po' di vita. Questi invece sono le frecce. Ne ho sprecate una ma almeno mi sono ricordato che c'ho le frecce. Apriamo tutti i forzieri che troviamo. Ah, caspita, questi c'hanno le barriere, questi. Mi devo ricordare che si può pure parare con lo scudo. Penso che stiamo per morire tutti. Stanno per morire tutti i nostri uomini. Ok, così abbiamo parato. Ma questo è tipo un comandante cazzutissimo, mi sa. Eh, ci stanno pure le frecce. Dove vogliamo andare noi? Siamo rimasti da soli. Attenzione, i rischi. Siamo quasi morti. Abbiamo un po' di carne. Ok, così ci siamo un po' curati. Mamma mia quante frecce che arrivano. Vediamo cosa succede alla morte. Ecco, siamo... Siamo morti malissimo, tra l'altro avevamo trovato del pesce. Potevamo andarcene e curarci un po'. La prima missione subito è fallita. Brutalmente anche, direi. Ma io credo che lo scopo fosse proprio andare ad esplorare, visto che non ci dava altre missioni da fare in accampamento. Ah, ma dove siamo? Benvenuto, Toraldoral, Olavson. Sono Hel, il dio del mondo sommerso. In realtà sarebbe il mondo dei morti, nella mitologia norrena. Questo è il mio regno. Ti stavo guardando e mi è sembrato che tu facessi qualcosa per una giusta causa. E le tue abilità in combattimento mi hanno impressionato. La tua vita terrena potrebbe finire qui, ma ho una proposta da farti. Sconfiggimi in battaglia e ti rimanderò indietro. Iniziamo. Ma che stai fuori? Ma noi siamo scarsissimi. Ma cosa combatti? Allora, devo dire che il combat system... Ah, è già finito? Col cavolo. Il combat system non mi dispiace. È anche abbastanza semplice perché sono tre comandi in croce e ci sta pure, visto che è a scorrimento laterale. Tra l'altro c'è pure la stamina che si ricarica molto lentamente. Quello che però avrei un minimo migliorato è la responsività dei comandi. Là secondo me si poteva fare qualcosa in più. Io però non posso più fare la schivata perché siamo morti. Consumiamo troppa stamina. Forse possiamo parare però. Ok, abbiamo parato. Dobbiamo puntare a parare perché la stamina è finita. Certo che questa roba di farci affrontare la dea della morte... Bel combattimento, Toraldolavson. Ti meriti un altro giorno di vita. Quindi abbiamo sconfitto Hell, la dea dell'oltretomba, ecco, e ci ha riportato in vita. Questo riduce il consumo di stamina. Questo subito. Subito perché ne consumiamo veramente tanta. In questo caso io farei questa possibilità di stordimento perché effettivamente magari in alcuni momenti siamo stati sopraffatti da tanti nemici tutti in una volta. Invece in questo modo qualcuno ce lo leveremmo. Abbiamo delle risorse e possiamo effettivamente craftare delle unità. Alcuni più forti che spendono più risorse. Questi per esempio non ne possiamo fare più. Così ripariamo le varie robe. Così costruiamo le armature. E possiamo anche potenziarli. Adesso abbiamo fatto di nuovo degli alleati, ecco. O meglio, li stiamo facendo pian piano, credo. Esatto. Questo è Sonso Valalla. Chiaramente andrebbe approfondito per bene. Però secondo me ha delle potenzialità. Se si riesce ad andare oltre lo stile grafico minimale, che comunque secondo me come pixel art è resa anche abbastanza bene a livello artistico, potrebbe regalare delle soddisfazioni. Però andrebbe effettivamente approfondito e chissà che non sia il caso di farlo quando il titolo uscirà sul mercato. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate voi. Se proverete questa demo che è disponibile in questo momento su Steam o se lo proverete quando uscirà, se conoscevate il progetto, io vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video e se non l'avete ancora fatto. Seguitemi anche su Instagram. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.